È stato presentato in comune lo studio di fattibilità dell'ex birrificio, sede della storica società anonima Birra Pordenone. Tale progetto, curato dallo studio Opera Italian Engineering, intende riqualificare il vecchio edificio del Novecento, esempio di archeologia industriale e vero e proprio simbolo dello sviluppo economico di Pordenone. Lo stabile ospiterà le attività della fondazione ITS Alto Adriatico, i relativi uffici amministrativi, spazi per la didattica e verranno realizzate cinque unità abitative dedicate a studenti e docenti. Vi sarà anche un ampio auditorium ed uno spazio più piccolo in cui ospitare mostre ed eventi. Tutti intorno spazi verdi nel nome della resilienza e della sostenibilità, aumento delle superfici drenanti, realizzazione di un giardino della pioggia, consumo di energia prossimo allo zero, utilizzo di pannelli fotovoltaici e sonde geotermiche, uso della domotica per una gestione responsabile dell'energia. Io sono molto orgoglioso di questo progetto perché credo che nessun pordanese avrebbe scommesso un centesimo bucato sulla possibilità che qualcuno riqualificasse quel straordinario edificio che è l'Exbilleria. Noi abbiamo ottenuto i finanziamenti, a fine mese partirà la gara ad appalto e questo edificio non sarà oggetto di una semplice riqualificazione, ma si inserisce in un contesto molto più articolato di rigenerazione urbana, cioè di dare un destino a questi edifici per promuovere lo sviluppo, l'attrattività e la stanzialità in città. Cosa significa? Per esempio in questo caso dare una sede all'ITS, cioè agli istituti tecnici superiori, i corsi biennali post-diploma che creano i superperiti, cioè le figure più richieste in questo momento del mondo del lavoro, vuol dire attrarre giovani che qui possono restare, possono mettere su famiglie e contribuire alla crescita economica della nostra città. Accanto a questo molti altri cantieri che partiranno da qui al prossimo anno per consentire di aumentare anche i servizi, l'attrattività, la funzionalità e la bellezza di Pordenone. Tutto bello, sicuramente qualche cambiamento, per esempio quello nelle linee di trasporto pubblico creerà qualche malumore, ma sono tutte operazioni necessarie per rendere Pordenone, una città media, quindi non gigantesca, ma in linea con l'esigenza della modernità, più bella e più funzionale. È importante per i giovani, per l'alta formazione del capitale umano, è importante per Pordenone come grande centro manifatturiero della nostra regione che vedrà così aumentare la capacità di formare competenze adeguate ad affrontare la trasformazione del sistema industriale. L'industria 4.0 richiede figure di questo tipo sia nella formazione di tecnici che di manager e un domani di imprenditori, perché noi puntiamo a creare una nuova leva di nuove imprese, tutte nel segno della digitalizzazione, che potranno essere il futuro del manifatturiero del nostro territorio.